signori l'ultimo treno fin di guerra nazisti somma pesante 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 parte già in maniera pesante diceva beh il genere del film ma poi va ci va da città dentro città dentro città dentro mamma mia bello perché è bello voto 8.1 però non so neanche se consigliarlo beh questo attore qua lo conoscete tutti per il sesto senso per il poi è sparito come dal bambino dopo il bambino è diventato un attore sconosciuto basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete è stato lei ciao ciao